Il governo cittadino Fibrillazioni nei partiti riguardo la questione dell'assegnazione delle poltrone di sottogoverno, dal parco alla meta, dalla secal alla società in house, per la fondazione autocandidatura dell'onorevole Asvacca. Domani si celebra in Catalonia la Diada, festa nazionale, previste diverse manifestazioni anche ad Alghero, con incontri culturali e la proiezione di un film. Intanto si fanno sempre più pressanti le giuste istanze indipendentiste della popolazione catalana. Abbiamo sentito il direttore della Generalitat, Joana Deglie. Per il calcio passaggio del turno in Coppa Italia per l'Alghero, che ha superato il Castelsardo ai rigori, mentre il Fertilia è out. Poi spazio alla vela con l'importante secondo posto di due velisti dello Iotto Club Alghero alla Coppa Primavela, svoltase a Cagliari. Un buon inizio di settimana a tutti voi ben ritrovati con la quotidiana informazione su CatalanTV. Cominciamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca. Indagini della polizia e dei carabinieri sui furti avvenuti nella notte di sabato ad Alghero. Oggetto, presumibilmente, di una banda organizzata, le slot machine ubicate in tre diversi punti della città. Dal tabacchino di via Carducci è stato portato via un cambio a monete, stesso discorso per il Roxy Bar di via Nuoro, dove però i ladri hanno sottratto anche una macchinetta da gioco. E infine è preso di mira anche un chiosco lungo il Lido, dove anche in questo caso è stata svuotata una slot machine. Alcune casse che contenevano il danaro sono poi state ritrovate in via 20 settembre. Pare che, come detto, si tratti di una banda organizzata che ha colpito in città e sulle cui tracce ci sono gli uomini del commissariato e militari dell'arma. Cambiamo argomento. A poco più di un mese dall'insediamento della nuova amministrazione sono già diversi i nodi al pettine che devono essere sciolti da parte della compagine al governo cittadino. Fibrillazioni nei partiti riguardo la questione dell'assegnazione delle poltrone di sottogoverno, dal Parco alla Meta, dalla Secala alla Società in House, per la fondazione autocandidatura dell'onorevole Vacca. Ma sentiamo i servizi. Elias Vacca, già parlamentare e leader regionale del Partito dei Comunisti italiani, si propone come nuovo presidente della Meta. Rende pubblica la sua intenzione attraverso una lettera inviata al sindaco Lubrano. Dalle cronache cittadino ho appreso dell'imminente rinnovo degli organi direttivi del Parco naturale ed ho motivo di ritenere che nelle prossime settimane altri enti a vario titolo partecipati o gestiti dal Comune di Alghero vedranno rinnovate cariche direttive e gestionali. Per quanto la mia opinione di cittadino possa contare, riterrei preferibile che le forze politiche affrontassero la materia in un unico contesto e con un'uniformità di metodi e criteri e soprattutto con assoluta trasparenza. Così Vacca che continua, allo scopo dunque di far seguire atti concreti e proclami elettorali pure da me effettuati vengo con questa mia ad offrire a lei e dalla mia città la disponibilità per la presidenza della Fondazione Meta ente rispetto alla cui sfera di attività ritengo avere migliore attitudine rispetto ad altri a poter dare il più incisivo contributo alla città. L'Onorevole di Sinistra ricorda che non è mistero che il sottoscritto, e credo di poter dire una parte importante delle forze politiche della sua maggioranza, abbiano sempre dichiarato preferibile il superamento della Fondazione e la riconduzione delle competenze di quest'ultima all'apparato amministrativo comunale. Ma visto che la meta resterà in vita, è essenziale che detta Fondazione sia gestita secondo l'indirizzo programmatico dell'amministrazione, in modo trasparente da organi individuati, con metodo trasparente e con pubblica evidenza. Vacca poi fa un resoconto del suo curriculum politico e professionale, ricordando che non è il candidato di qualcuno o di qualche partito, se lo fossi sarei stato proposto da una delle forze della sua maggioranza. Sono uno dei tanti algheresi che ritiene doveroso offrire il proprio contributo e chiede che l'offerta sia gestita in modo trasparente e rispettoso, accolta e declinata. Poiché da mio canto svolgo un'attività professionale dignitosamente remunerativa, ho sempre considerato la difesa dei bisognosi e dei deboli un dovere per chi si sia emancipato, come me, attraverso la fatica dello studio. Spesso esercito la mia professione a titolo di volontariato. Posso lavorare per la mia città anche gratis, se tutti insieme decideremo che ciascuno, eventualmente chiamato a servire il pubblico interesse, così debba fare. Settimana cruciale per il centro-sinistra, oggi è il governo della città. A poco più di un mese dalla vittoria delle elezioni, la maggioranza si trova a far fronte già alle prime difficoltà politiche. Oltre alle emergenze che hanno caratterizzato l'estate, dai pesanti riservizi nella raccolta dei rifiuti fino alla questione decibel, si sono palesati, in forse por chi se lo potevano aspettare, i primi nodi politici da sciogliere. In particolare le prime grane sono derivate dalla composizione del puzzle per le poltrone di sottogoverno, che poi tanto sotto non sono, nel senso che Meta, Parco, Secal e Inaus, rappresentano settori delicati e importanti per la macchina amministrativa. La linea del sindaco lubrano, come detto sia in campagna elettorale, che una volta conquistata Sant'Anna, è che si sarebbero dati questi ruoli a persone competenti e che si sarebbe attuato anche un taglio netto con il passato riguardo i monumenti, i gettoni di presenza e stipendi. Certamente tra il dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare, o meglio la politica e dunque le persone. Per questo, al fine di evitare insanabili spaccature, si è trovata una via di mezzo, ovvero nominare funzionari già nella pianta organica del comune e dunque la Secal alla dirigente del settore finanziario, Franca Acaria, e stesso discorso si vorrebbe attuare con la Meta, per cui era stato scelto un altro funzionario, ma del settore cultura, Pietro Alfonso. Scelte queste per far riassegnare la guida di questi organismi agli assessori competenti, nell'ultimo caso ad Alma Cardi e Romina Caula. Dunque lasciare nelle mani dei vari tecnici nominati una conduzione operativa rispetto alle linee d'attuazione programmatiche dettate dalla politica, un modus operandi ragionevole che però, dati alla mano, sembra stia creando dei malumori nella maggioranza. Prova ne è il fatto che nessuno si aspettava una sparata sulla stampa da parte di un leader della sinistra come Elia Svacca, riguardo l'autocandidatura per la Meta. Non tanto per il contenuto e tenore della lettera inviata al sindaco, ma per la forma utilizzata. Infatti non si può non restare stupiti dal fatto che la coalizione del dialogo e della partecipazione abbia necessità di parlarsi attraverso i mesi di informazione e non nelle sedi idonee e con la base dei partiti di riferimento. Come spesso accade in questi casi, qualcuno si affretterà a gettare acqua sul fuoco dicendo che sono illazioni e ricostruzioni infondate, ma purtroppo per loro non è così. Basta vedere la riunione urgente e fissata per stasera alla presenza di tutti i componenti del centro-sinistra. Qualcosa è palese, non va. Domani 11 settembre si celebra la Diada, festa nazionale di Catalunia. Questa mattina nella sede delle spa Iliuli in via Columbano il direttore Gioana Degli ha convocato una conferenza stampa nella quale ha presentato le iniziative che si svolgeranno anche ad Alghero in occasione della festa nazionale in Catalogna. Domani 11 settembre alle 19 si farà un omaggio alla lingua che vedrà protagonisti bambini algheresi in collaborazione con la ludoteca Anglinglò davanti al monumento della lingua di via Vittoria Emanuele. Alle 19.30 al Chiostro di San Francesco la professoressa Rosa Maria degli Or del Centro dei Documentazioni e Studi Salvador Espriu di Areins de Mar terrà una conferenza dal titolo Salvador Espriu il Alghe. Letture affidate a Franca Masu. Il 12 settembre invece alle 19 presso la sala Manno della Mediateca della Società Umanitaria di Alghero in via Marconi la proiezione del cortometraggio Barcelona and Oscurols di Alberto Diana seguirà un dibattito che oltre all'autore vedrà intervenire il professor Raffaele Pinto, docente di letteratura italiana all'Università di Barcellona. Ma sentiamo adesso l'intervista realizzata con il direttore delle spa Iliuli Gioana Degli. Con lui abbiamo parlato dell'importanza della Diada per il popolo catalano e anche della grande manifestazione che si terrà a Barcellona domani. La versione integrale di questa intervista andrà in onda subito dopo i TG. Intanto per tutta questa settimana e anche nei giorni a seguire Catalan TV darà spazio appunto a diversi esponenti catalani. Joana Dell, director de l'Espai Lull en Anquia a l'Alguer. Demà i després de demà a Catalunya se celebra la Diada. És un moment ampultant. Sí, és un moment molt important. És la nostra festa nacional i com en altres anys hem volgut també celebrar-lo aquí a l'Alguer per compartir-lo amb els alguresos i amb els arcs. Aquest any hem organitzat, com es va fer l'any passat, un homenatge a la llengua catalana. Ho farem en col·laboració amb la Ludoteca Anglingló. El que volem és que els minyons, que són d'alguna manera els que faran possible la pervivència de l'Alguer a la vostra ciutat, doncs feu una acció que sigui simbòlica que els minyons són el present i el futur de la llengua catalana a Catalunya i a l'Alguer. Després tindrem una conferència, la conferència de la senyora Rosa Maria de Lor, que és una experta en l'obra d'Espriu. Espriu és el poeta català més important del segle XX i és una persona que estima molt l'Alguer i la seua poesia parla sovint de l'Alguer. I finalment, en col·laboració amb la humanitària, el dia i la relació conflictiva entre Espanya i Catalunya. La crisi econòmica que hi és en Espanya ha fet creixir també la gana d'independència en Catalunya? La crisi econòmica el que ha fet és les contradiccions existents, el no encaix com diem nosaltres entre Catalunya i Espanya fer-lo cada vegada més fort. El 11 de setembre Catalunya serà la manifestació jo crec més important que tindrà lloc a Catalunya en tot el que va de segle i fins i tot des del començament de la democràcia, perquè el poble català té la necessitat de tindre els recursos per afrontar la crisi econòmica i sobretot tindre la possibilitat de, com diem nosaltres, tenir la clau de la caixa de la moneda. Catalunya paga molts impostos a Espanya que després no tornen i això fa que en període de crisi el nostre autogovern, la nostra voluntat de poder ser competitius en una Europa cada vegada més complexa i que necessita més coses, doncs el que volem és d'alguna manera reivindicar aquesta llibertat per Catalunya i per els seus ciutadans. Da domani nella Chiesa della Misericordia cominceranno i riti di preparazione alla festa dell'esaltazione della Santa Croce. Come tradizione, venerdì 14 settembre si terrà la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo Monsignor Mauro Maria Morfino, alla quale seguirà il bacio dei fedeli alla reliquia. La Chiesa della Misericordia che sorge nel cuore della città vecchia e che rappresenta un luogo della tradizione del culto algerese si prepara a celebrare la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Un rito antichissimo inserito nel calendario come festa comandata e così come in altre tante città italiane sparse in varie diocesi anche Alghero la celebra. Si tratta proprio di una solennità all'interno della quale viene venerata la reliquia della vera croce di Gesù della quale le Suore della Misericordia custodiscono un pezzo millesimale e di valore inestimabile. Venerdì prossimo, 14 settembre, a partire dalle 18.30, è in programma la Messa Solenne che sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Mauro Maria Morfino. I fedeli, come tradizione, si recheranno in chiesa per assistere alla solenne celebrazione. Al termine della funzione si potrà venerare la reliquia della vera croce. La festa sarà preceduta da un triduo di preghiera a cominciare da domani, 11 settembre. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco.